In pieno svolgimento le indagini sul decesso del maggiordomo trovato morto all'interno di palazzo Aliata di Pietra Tagliata a Palermo in fondo a una scalinata. L'uomo Giovanni Misia Reynoso, ecuadoriano di 37 anni, faceva parte da tempo del personale di servizio del quattrocentesco edificio mobiliare dei Principi Licata di Baucina. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo a coordinare le indagini della polizia e il PM Emanuele Ravaioli. A trovare il maggiordomo sulle scale è stato un operaio edile che spesso esegue piccoli lavoretti all'interno del palazzo. Il custode di un palazzo attiguo ha riferito che l'altro ieri mattina intorno alle 10 ha visto uno slavo uscire dal palazzo e ritirare la posta recapitata in via Bandiera dal postino. Dello straniero però la polizia non ha trovato traccia e da due giorni sta cercando di rintracciarlo per farsi raccontare la sua versione dei fatti. Gli investigatori del commissariato Reto e della polizia scientifica che indagano su quanto accaduto hanno osservato a lungo anche la posizione del cadavere. Giovanni Misia Reynoso era in posizione supina e sarebbe caduto dalla prima rampa finendo alla fine della scala. Un volo che presenterebbe una dinamica che ancora è al vaio degli investigatori. Tuttavia non si esclude l'incidente.